Io sono un cliente Berto dal 2019, con il suo Fabio, siamo venuti qui con mia moglie nel momento in cui abbiamo cambiato casa e ovviamente ci siamo innamorati dei prodotti Berto. Abbiamo un divano Harley, dopo quattro anni che lo viviamo quotidianamente si può dire, è un divano di una qualità eccessa. Lo viviamo e vediamo che nonostante venga vissuto, la qualità si percepisce. Ho tolto questo, però siamo innamorati della linea Berto. Abbiamo visto col passare degli anni anche l'evoluzione in altri prodotti. Devo dire che è una linea che ci affascina, personalmente mi affascina a riguardo. Proprio ecco recentemente, quando Fabio mi ha anticipato della linea outdoor, che oggi sto vedendo per la prima volta, dal vivo, sono rimasto estasiato della propria linea, dell'originalità. Però si contraddistingue, devo dire, della linea Berto, che è diversa comunque da altri prodotti. Lo dico perché è per vissuto, perché lo provo quotidianamente e so quello che dico. Per cui questa è la mia esperienza con Berto. Grazie a tutti.